Prima una bella, una brutta notizia. Partiamo dalla bella. Ma Fornito si è allenato bene, quindi l'ho trovato aggregato. Poi, quella brutta. Abbiamo avuto un problemino con Nicoli. Una nuova guida tecnica, ma stessi problemi di infermeria. La Virtus Franca Villa, che questa sera se la vedrà contro il Brindisi, dovrà fare a meno del capitano Gavazzi, dei centrocampisti di Marco Izzillo, di Jakubiv, che sconterà un turno di squalifica, e Nicoli, che in settimana ha avuto un piccolo problemino fisico. Ho ancora qualche piccolo dubbio per quanto riguarda l'11. Anche perché mi hanno messo molto in difficoltà. Ci sono tanti giocatori che li conoscevo e li stimo tantissimo. Comunque, quando arrivi ad allenarli, ti viene la voglia sempre di metterli in campo. Di fatto, Roberto Chiuzzi si ritrova con la coperta corta in difesa, con scelte obbligate a centrocampo. Sulla tolta di comando, però, tornano Monte Agudo e Fornito nell'asse centrale, con il primo, che sarà affiancato in difesa da Cardi e De Marino, e con il regista, che completerà il centrocampo, che vede certi di una maglia carella a destra, biondi a sinistra, e Risolo al suo fianco. In avanti, Macca dovrebbe agire in supporto ad Artistico e Polidori, quest'ultimo favorito su Giovinco, per il 3-4-1-2 che ha in mente Occhiuzzi. Un derby che la Virtus vuole far suo, dopo aver perso quelli con Monopoli e Taranto, Brindisi in Coppa, è pareggiato a Foggia e che Occhiuzzi vuole vivere con lo spirito giusto. Sto cercando di viverlo con la gente che mi circonda, perché quando vivi un derby c'è sentimento, c'è passione, e per conoscerlo bene devi capire la storia della città con cui vesti i colori. E quindi chi mi sta intorno, e negli occhi di chi mi sta intorno, di addetti ai lavori, ai dirigenti, ai magazzinieri, sto cercando un po' di capire. Tutti i derby hanno un sapore particolare, però è fondamentale che chi lo sente dentro, mi fa venire anche a me il dolore di stomaco, insomma, quelle farfalle.